Ciao a tutti signori e signore, bentornati in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene, perché oggi vi voglio parlare di una nuova serie di strumenti che hanno reso il rilievo topografico facile, veloce e produttivo. Sto parlando della serie S della Trimble, che ha prodotto vari modelli, a partire dall'S5 fino ad arrivare all'S9. Qui in Geoclobex abbiamo disponibili vari modelli, e tenete presente che potete acquistare sia con il leasing sia con il radio operativo. Comunque per avere maggiori informazioni riguardo non fate altro che contattarci e avrete tutte le informazioni che vi servono. Ma vediamo nel dettaglio le particolarità di questi strumenti. Dispongono della tecnologia DR+, e questo consente una maggiore precisione soprattutto nelle lunghe portate. Utilizzano batterie a litio di lunga durata. Inoltre questi strumenti si possono configurare in modalità robotica, e questo cosa significa? Che possiamo utilizzare lo strumento come un operatore. In alcuni modelli di questa serie è stata installata la tecnologia Trimble Vision. Che cos'è? Praticamente hanno installato all'interno dello strumento una fotocamera calibrata. Questo ti permetterà di vedere in tempo reale, attraverso la connessione con il controller, ciò che sta vedendo lo strumento, e quindi interagire con ciò che stai misurando. L'utente quindi sarà in grado di vedere i punti misurati dal display del controller. Altri modelli invece dispongono di un'entrata USB, dove si potrà inserire una chiavetta e scaricare direttamente da lì i dati, quasi contemporanea a poterli mandare al proprio studio. Un'altra qualità aggiuntiva di questi modelli è che il piombo ottico non si trova direttamente sullo strumento, per cui non è più necessario avere la tricuspide fornitela di questo accessorio. Infine, dispone di una maniglia ergonomica per poter effettuare le misurazioni anche in verticale. Mica male, eh? Vi ricordo che gli strumenti verranno forniti completi di accessori, quindi batterie, caricabatterie, cavi... Comunque, se avete qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!